Siamo con Romastucchi, portiere della Combeda, vinto 1 a 0, gara del secondo turno dei play-off, dunque insomma mi sono compiuto a due grandi parate nel finale, complimenti! Grazie, speravo di arrivare, dopo alla fine ci sono proprio arrivato perché alla fine non ho mai mollato e anche le parate quelle forse più difficili ci ho creduto fino alla fine. Dico la verità, sull'uscita è stata veramente difficile perché il tocco dell'attaccante mi ha messo in difficoltà ma per fortuna con il tocco delle dita sono riuscito a pigliarla e buttarla in calcio d'angolo. A questo punto non potete più nascorrevi, dovete arrivare a fine in foglia, al torneo. Speriamo di arrivarci, io ci credo perché darò sempre il massimo in tutte le partite che darò con la Combeda e con la Nazionale dello Sport o comunque cosa mi succeda e crediamoci, Combeda! Bene, grazie e complirte ancora! Grazie a tutti!